un orto botanico non è soltanto un giardino nel mondo dell'informazione diffusa dell'immagine della disponibilità di dati e di analisi dell'apparente conoscenza totale l'esperienza della realtà pare quasi superflua cosa avranno da raccontarci il grande platano o le tante altre piante dell'orto forse non aggiungono nulla a quello che già sappiamo di loro ma la loro esistenza il loro essere parte viva di una realtà che si fa in memoria perché l'orto è un museo vivente perché sono collezioni ci mostra qualcosa che troppo facilmente dimentichiamo oggi nel mondo un milione tra specie animali e vegetali è a rischio di estinzione e luoghi come l'orto botanico di bologna sono indispensabili per tutelare la biodiversità del nostro pianeta custodi di piante rare e antichissime luoghi di studio e di ricerca che non dobbiamo perdere l'orto botanico è un luogo magico dove si incontrano passate futuro formazione ricerca università e città e a 450 anni dalla sua fondazione l'università di bologna ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding per la sua riqualificazione oggi scendiamo in campo insieme per rendere ancora più fruibile ricca l'esperienza di questo patrimonio della città questo spazio della biodiversità appartiene al nostro territorio alla nostra storia e si mantiene anche grazie alle persone che lo visitano e se ne prendono cura e lo sostengono donare per la riqualificazione dell'orto botanico è un piccolo gesto ma molto importante perché la tua donazione farà sì che l'università di bologna insieme ai tanti sostenitori innamorati di questo progetto possa riqualificare l'orto donarlo alla città e all'ambiente e come spazio ancora più ricco e stimolante grazie